In questo video vi andrò a mostrare come sono riuscito a creare questa personalizzazione di Windows 10 in stile material design, molto clean di Windows 10 Vi farò vedere tutti i programmi che ho installato, tutti i temi, tutte le icone e come vedrete sarà molto molto semplice, veloce ma soprattutto gratuito Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito Ciao ragazzi qua FedeTutorial, bentornati finalmente in questo nuovo video Se fosse la prima volta che vi trovate qui sul mio canale e voleste vedere altri video del genere su consigli, tutorial riguardo la tecnologia Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto abilitare la famosissima campanellina delle notifiche, molto molto importante Detto questo passiamo alla nostra personalizzazione Innanzitutto prima di cominciare vi chiedo di guardare il video dall'inizio alla fine perché ci sono informazioni molto molto importanti che dovreste sentire tutti perché altrimenti potreste riscontrare dei problemi Punto numero 2, questa personalizzazione funziona benissimo con Windows 10 ma non ho potuto provarla con Windows 8, Windows 8.1 o Windows 7 Credo che non funzioni, se voi magari avete un computer che dovete formattare quindi non vi importa e volete testarlo Nel caso poi fatemi sapere qua sotto nei commenti com'è andata così potrò magari aggiornare la descrizione del video Punto numero 3, alla fine di questo video vi andrò anche a mostrare come è possibile tornare indietro e annullare tutte le modifiche Nel caso voleste cambiare personalizzazione, nel caso vi abbia stancato Oppure molto importante nel caso doveste fare qualche aggiornamento di Windows Perché spesso ci sono dei problemi di incompatibilità con i file che andremo ad installare Quindi vi consiglio di annullare tutte le modifiche e successivamente rifarle dopo l'aggiornamento E ultimo punto molto molto importante, prima di cominciare vi consiglio di fare un punto di ripristino sul vostro computer In modo tale che se qualcosa dovesse andare storto potreste sempre ritornare alla versione originale di Windows che avete adesso Per fare un punto di ripristino è molto molto semplice Basterà fare un tasto destro sul vostro menu start, cliccare su sistema Da qui tramite il menu a sinistra cliccate su protezione sistema E su questa schermata basterà cliccare su crea Vi chiederà di inserire un nome per il vostro punto di ripristino Potete ad esempio scrivere Windows 10 prima della personalizzazione E una volta che avrà completato la procedura e salvato il punto di ripristino Potrete ritornare all'esatto punto in cui siete adesso cliccando su ripristino configurazione sistema E poi seguire la procedura guidata Mi raccomando fatelo perché andremo a modificare dei file di Windows Io l'ho provato un sacco di volte sul mio computer e non è mai successo nulla Però ovviamente nel caso qualcosa dovesse andare storto io non mi reputo responsabile con questo video Detto questo non vi rubo altro tempo, finalmente partiamo con la procedura vera e propria Quindi eccomi qua sul mio computer con una versione completamente aggiornata e non modificata di Windows 10 E vi vado ora a far vedere tutti quanti i passaggi che ho utilizzato Per ottenere quel risultato di material design che avete visto prima Innanzitutto molto molto importante dovrete cliccare il link che trovate qua sotto in descrizione Che vi porterà in questa pagina di Mega Questo è un pacchetto che ho caricato direttamente io con dentro tutto quanto il necessario Così non dovete andare a scaricarvi i file in giro da altri siti strani Una volta arrivati qui basterà cliccare su scarica e partirà appunto il download che durerà pochi secondi Una volta scaricato eccolo qua basterà farci un tasto destro e cliccare su estrai qui E come vedete ci comparirà questa cartella con lo stesso nome dell'archivio Windows 10 Material Design Pack by Fede Tutorial Apriamo poi questa cartella e all'interno troveremo tantissime altre cartelle Tutte in fila nell'ordine in cui dovremmo utilizzarle quindi è molto semplice Per prima cosa ovviamente il wallpaper perché anche questo in un certo senso fa parte di tutta quanta la personalizzazione Quindi apriamo la cartella wallpaper e all'interno troverete un nuovo archivio WinRAR A questo punto facciamoci un tasto destro e clicchiamo su estrai qui di nuovo E in questa cartella appena estratta ci saranno tutte quante le risoluzioni a seconda del nostro schermo Ad esempio il mio schermo è in 1920x1080 pixel quindi full HD con un rapporto di 16 noni E quindi i wallpaper che andrò ad utilizzare io sono quelli della cartella 16 noni Voi semplicemente in base al rapporto che ha il vostro schermo o il vostro monitor andate a scegliere la giusta cartella E qui semplicemente ci sono alcune foto che secondo me stanno bene con questa personalizzazione Ma ovviamente è tutto facoltativo Se avete un wallpaper che vi piace di più semplicemente utilizzate quello e lasciate perdere questi Io comunque vado ad impostare il primo perché è quello che mi piace di più Quindi faccio un tasto destro e clicco su imposta come sfondo del desktop Ok primo passo completato A questo punto passiamo allo step 2 e quindi apriamo la cartella Ultra UX Theme Patcher Qui vi ho inserito un link e non il file vero e proprio perché è giusto che abbiate sempre l'ultimissima versione scaricata dal sito ufficiale per non avere problemi Quindi aprite questo file e all'interno troverete un link che dovete semplicemente copiare e poi incollare sul vostro browser Una volta arrivati su questa pagina scarichiamo il nostro programma Ultra UX Theme Patcher Quindi andiamo a cliccare su Ultra UX Theme Patcher 3.4.1 Selezioniamo il nostro desktop e clicchiamo su salva Ecco qua il nostro file scaricato andiamo a farci un doppio clic Qui clicchiamo su next Mettiamo questa spunta per accettare i termini E clicchiamo ancora su next I agree E infine clicchiamo su install Ancora next E infine vi chiederà di riavviare il computer Quindi fatelo perché è molto importante Selezionate reboot now e cliccate su finish Una volta riavviato il computer apriamo di nuovo la nostra cartella di Windows 10 principale E apriamo la cartella numero 3 chiamata tema All'interno troverete un'altra cartella chiamata iWin Che sarà il nome del nostro tema che dovremmo utilizzare E le tre versioni compatibili con questo tema di Windows 10 Se volete verificare che versione avete Nel caso non lo sappiate già Basterà fare un tasto destro sul menu start e cliccare su sistema Come vedete vi si apriranno le vostre impostazioni E scorrendo verso il basso su versione Potete verificare che da me c'è scritto 1803 Quindi è una versione compatibile Per cui posso tranquillamente aprire questa cartella E copiare tutti i file che ci sono all'interno Selezioniamoli tutti e clicchiamo tasto destro copia Successivamente incolliamo questi file su disco locale C Apriamo la cartella Windows Scorriamo in basso fino a trovare la cartella resources Eccola qua E poi apriamo la cartella themes Dovremo incollare tutti questi file all'interno di questa cartella Quindi facciamoci un tasto destro e clicchiamo su incolla Mettiamo questa spunta Esegui questa operazione per tutti gli elementi correnti E clicchiamo su continua Una volta finito potremmo già impostare il nostro tema Per farlo chiudiamo tutte le cartelle aperte E andiamo sulle impostazioni del nostro computer Spostiamoci nel tab personalizzazione E da qui clicchiamo appunto su temi Come vedete oltre a quello predefinito di Windows Ce ne saranno tanti altri Che sono quelli che abbiamo appena aggiunto Ma quindi se il tema è uno solo Qual è la differenza tra tutte queste versioni? La differenza principale è che una versione ha lo sfondo nero Un'altra ha lo sfondo bianco Alcuni hanno i bottoni più piccoli Altri più grossi E ci sono tutte le varianti di tutte queste versioni Quindi scegliete semplicemente quella che vi piace di più Per esempio a me quello che piace di più è questo qui I win light Andiamo a cliccarlo E se tutto è andato per il meglio Se chiudiamo e riapriamo di nuovo esplora risorse Come vedete c'è già il nostro tema impostato Quindi se siete arrivati a questo punto siete già a metà strada Ma cosa fare nel caso non funzionasse? Beh in quel caso significa che Ultra UX Team Patcher Non è riuscito a patchare i file di Windows Di cui abbiamo bisogno E quindi come è possibile risolvere? Apriamo ancora una volta la cartella principale E apriamo la cartella 4 Che come vedete ho scritto solo se non funzionante Quindi se a voi il tema già funziona come nel mio caso Semplicemente schippate questo passaggio Non fatelo perché non c'è bisogno Ma se per qualche motivo non riuscite ad applicare il tema Seguite questo procedimento Aprite la cartella numero 4 Patcher Fix e fate un doppio clic sul file Add Take Ownership Cliccate su sì e poi su ok A questo punto aprite il file di testo chiamato files E tenetelo da parte Lasciatelo aperto Mentre su questa cartella spostatevi di nuovo su disco locale C Aprite ancora una volta la cartella Windows Scorrete in basso fino a trovare la cartella System32 E poi di nuovo in basso fino a trovare questi file Se volete per comodità io vi consiglio di ricercarli da qui in alto Il primo è uxtheme.dll Eccolo qua Uxtheme.dll Fateci un tasto destro sopra e cliccate su Take Ownership Si apriranno delle finestre per pochissimi secondi È tutto normale non preoccupatevi E dovete fare la stessa cosa con tutti e tre i file Quindi cerchiamo il secondo Uxtheme.dll Eccolo qui Tasto destro clicciamo su Take Ownership E poi con l'ultimo chiamato theme.ui.dll Mi raccomando prendete il file chiamato .dll e basta Non dll.mui o altro Quello .dll Tasto destro Take Ownership Una volta fatti questi passaggi Aprite ancora una volta Ultra UX Theme Patcher E fate ancora una volta l'installazione E dopo che il vostro computer sarà riavviato per la seconda volta Se impostate il tema a questo punto dovrebbe funzionare tutto Successivamente una volta fatto se vi funziona Buttate via tranquillamente il file che non vi serve più Aprite la cartella e aprite ancora una volta la cartella 4 Cliccate questa volta sul file Remove Take Ownership Quindi doppio clic Si e poi ok A questo punto tutti quanti dovreste essere sullo stesso identico punto Che è quello in cui sono io in questo momento E quindi apriamo la cartella numero 5 Per cui apriamo Old New Explorer Ci sarà un altro archivio RAR Basterà farci un tasto destro e cliccare su Estrai i file in Old New Explorer Troverete questa cartella chiamata a sua volta Old New Explorer E a questo punto incolliamola in una cartella che non utilizziamo quasi mai Quindi in un punto in cui non ci dà fastidio Per esempio io la vado a mettere sui miei documenti Che tanto non utilizzo quasi mai Quindi tasto destro, incolla E una volta fatto questo andiamo ad aprire Old New Explorer Facciamo un doppio clic sul file Old New Explorer CFG Qui selezionate le spunte che ho io, quindi la seconda e poi queste prime quattro Una volta che l'avrete impostato in questo modo cliccate su Install Dovrebbe esserci scritto qui Install Quindi tutto è andato per il meglio Chiudete e poi se rilanciate di nuovo Explora Risorse Ecco qua che la barra è completamente sparita Quindi anche questo passaggio è andato a buon fine Torniamo di nuovo nella nostra cartella principale E apriamo la cartella numero 6 chiamata Icone Ci sarà un altro archivio WinRAR Quindi facciamoci un tasto destro e clicchiamo su Estrai qui E una volta fatto apriamo la cartella appena estratta E qui ci saranno due file .exe Quindi applicazioni e una foto Importantissimo, prima di fare altro apriamo la nostra foto Questa foto come vedete ci servirà a scegliere le icone che ci piacciono di più Queste icone che trovate qui in basso fanno parte dell'icon pack Flat by Design Mentre quelle sopra si chiamano Dose Icons Voi dovete semplicemente scegliere in base a queste icone il tema, lo stile che vi piace di più Per esempio a me così a colpo d'occhio nel mio caso mi piacciono molto di più quelle in basso Quindi il mio icon pack che dovrò installare è Flat by Design Quindi chiudo la foto e vado semplicemente ad installare Flat by Design Però non c'è nessun problema, se voi preferite le altre basta fare un doppio clic sul file chiamato Dose Icons La procedura di installazione sarà esattamente la stessa, quindi non preoccupatevi Mettiamo una spunta su Accetto I Termini, clicchiamo su Next Lasciamo selezionato Patch All Files, clicchiamo ancora su Next E qui quando vi chiede di fare un punto di ripristino mi raccomando molto importante cliccate su Sì Come vedete a questo punto inizierà a patchare tutti i file, ci vorrà qualche minuto Quindi attendete semplicemente e non toccate nulla Una volta completato il procedimento semplicemente cliccate su Finish Ed avremo completato anche questo E infatti potete vedere che già le icone sul mio desktop sono diverse rispetto a prima Come vedete anche questa cartella E se aprite una qualsiasi cartella di Esplora Risorse potete vedere qui a sinistra tutte le icone che sono diverse Siamo già a un ottimissimo punto, praticamente abbiamo quasi finito Cosa fare? Beh, di nuovo apriamo la nostra cartella principale E vi dico subito che gli ultimi due passaggi sono facoltativi Cioè in realtà tutto quanto è facoltativo potete installare quello che volete Però una volta arrivati in questo punto già così alcuni saranno soddisfatti e non vorranno più installare nulla Queste due cartelle sono delle aggiunte che ho installato io perché personalmente a me piacciono Però se a voi non interessano e volete fermarvi qua potete farlo tranquillamente La cartella numero 7 Classic Shell ci permetterà di avere un menu start diverso da questo qui originale di Windows 10 Che a me piace non troppo Se anche voi volete cambiarlo basta farci un doppio clic Cliccate su Avanti Accetto i termini del contratto di licenza Cliccate di nuovo su Avanti Qui vi consiglio di cliccare su Classic Explorer e cliccare sulla funzionalità completa non sarà disponibile E stessa cosa su Internet Explorer classico Clicchiamo qui per disattivarlo Il resto lasciamo tutto com'è Clicchiamo su Avanti e poi Installa Togliamo questa spunta Visualizza file legittimi e clicchiamo su Fine Come potete vedere a questo punto se vado ad aprire il mio menu start è diverso È molto molto più simile a quello di Windows 7 o Windows 8 E personalmente io lo preferisco Se ci fate poi un tasto destro sopra e andate su Impostazioni potete cambiare tantissimi aspetti Impostazioni e programmi di questo menu Davvero c'è tantissima roba da cambiare Quindi vi consiglio di perderci un po' di tempo e cambiarlo a seconda dei vostri gusti Un'altra cosa che faccio poi personalmente è nascondere questa barra della ricerca Perché non mi serve più dato che tutto a questo punto è incluso qui nel menu start Già da qui posso cercare un qualsiasi programma Quindi questa barra qui grande non mi interessa più Per toglierla basta farci un tasto destro sulla barra applicazioni Andare su Cortana e cliccare su Nascosta E quindi è molto più semplice, molto più clean e a me piace davvero tanto Ultimissimo passaggio, anche questo ovviamente è facoltativo Apriamo la cartella principale e apriamo l'ultima cartella chiamata RainMater Facciamoci un doppio clic e anche qui troverete un documento di testo Perché è sempre meglio installare l'ultimissima versione Facciamoci un doppio clic e innanzitutto copiamo il primo link www.rainmater.net e incolliamolo sul nostro browser Una volta arrivati su questa pagina clicchiamo su Download Final per scaricare questo programma Salviamolo ad esempio sul desktop e clicchiamo su Salva Una volta scaricato facciamoci un doppio clic e installiamo il nostro programma Ovviamente selezioniamo Italiano, clicchiamo su OK Lasciamo installazione standard, clicchiamo su Avanti e clicchiamo infine su Installa Clicchiamo su Esegui RainMater e clicchiamo su Fine Vi compariranno automaticamente tutte queste finestre E per chiuderle basterà farci un tasto destro e cliccare su Smonta Skin In questo modo Una volta rimosse tutte le skin andiamo a copiare il secondo link Che trovate sempre nel documento di testo dentro la cartella principale Copiamo questo link e incolliamolo sempre nel nostro browser preferito Questa è una skin con ora, calendario e meteo che a me piace molto perché ha uno stile in un certo senso Material Design Con i colori tra l'altro che assomigliano molti a quelli del wallpaper che sto utilizzando E quindi secondo me è una cosa da installare Però ovviamente tutto facoltativo Per scaricarlo cliccate su Download qui in alto a destra E una volta scaricato per installarlo facciamoci semplicemente un doppio clic Clicchiamo su Install Ed ecco qui che come vedete vi compaiono subito le skin Smontate tutto e vi faccio vedere come configurarlo Innanzitutto aprite la finestra principale di Rainmater Per farlo basta fare un doppio clic qui su questa icona della goccia E dovreste trovare due cartelle tra cui UI Plano Apriamo questa cartella tramite il menu a tendina e clicchiamo innanzitutto su Zero Settings Apriamo di nuovo il menu a tendina e su Settings clicchiamo su Carica Qui come vedete vi chiederà di mettere la vostra location Quindi il vostro luogo per avere tutte le informazioni sull'ora e addirittura il meteo Per esempio se siete di Milano cliccate qui e iniziate a cercare appunto Milan Ed ecco qua che come vedete vi trova tantissimi risultati Voi cliccate sempre il primo Milan Lombardia Italy Cliccate su questa scritta ITXX0042 per utilizzare questa location Ok una volta settato chiudete questa schermata che non vi serve più E a questo punto sempre tramite il menu a tendina potete aprire quello che vi interessa Per esempio se volete l'orologio basta aprire il menu a tendina del clock Cliccare su clock.ini e cliccare su Carica Ed ecco qui l'orologio secondo me molto molto bello Se volete anche il calendario fate la stessa cosa con Calendar Cliccate su Calendar e cliccate su Carica Ecco qua il nostro calendario E se volete anche il meteo aprite la cartella Weather e fate la stessa cosa Voi fate quello che volete potete spostarli nel vostro desktop Metterli uno sotto uno sopra quello che volete Come avete visto la procedura è davvero semplicissima Ma come vi ho detto ad inizio video Ora vado a farvi vedere come è possibile tornare indietro ed annullare tutti i cambiamenti Quindi eccoci qua esattamente nel punto in cui ci siamo lasciati poco fa Innanzitutto la cosa più banale Smontiamo le skin di Rainmater Tasto destro smonta Tasto destro smonta E chiudiamo anche Rainmater da qui in basso Facciamoci un tasto destro e clicchiamo su Esci Il prossimo passo sarà quello di impostare un tema predefinito di Windows Per farlo apriamo di nuovo le impostazioni del computer Clicchiamo su Personalizzazione E clicchiamo su Temi Da qui semplicemente clicchiamo su Windows Per impostare il tema predefinito che avevamo all'inizio Il passo numero 3 invece sarà quello di andare di nuovo su Disco Locale C Cliccare su Windows Scorrere in basso fino a trovare la cartella resources themes E da qui cancelliamo tutti i file del nostro tema Ovvero tutti questi file chiamati iWin Cancelliamo il tutto Clicchiamo su Esegui questa operazione per tutti gli elementi correnti E clicchiamo su Continua Successivamente dovremo disinstallare le nostre icone che abbiamo installato prima Quindi apriamo di nuovo la cartella principale Apriamo ancora una volta la cartella icone Ritorniamo nella cartella che abbiamo estratto Ed apriamo ancora una volta il file che abbiamo utilizzato prima Io ho utilizzato Flat by Design Quindi vado di nuovo ad aprire questo file E voi dovete cliccare su Restore backup made at the time of installation Clicchiamo su Next Ed attendiamo che faccia tutto il procedimento che durerà veramente poco Una volta finito clicchiamo su OK E come vedete se apriamo una qualsiasi finestra Tutte le icone sono ritornate di default Il prossimo passo sarà quello di disinstallare Old New Explorer Per farlo torniamo nella cartella in cui avevamo lasciato il programma Io se vi ricordate l'avevo messa sui miei documenti Quindi vado ad aprire semplicemente la cartella documenti E qui trovo la cartella Old New Explorer Andiamo ad aprirla e apriamo il file Old New Explorer CFG Doppio clic Clicchiamo su Uninstall per disinstallarlo A questo punto però come vedete ci sarà un piccolo problema Se torniamo indietro e proviamo a cancellare la cartella di Old New Explorer Non ve lo fa fare perché vi dice che è già aperta Per ovviare a questo problema semplicemente riavviate Windows E una volta fatto il riavvio tornate su documenti e cancellatela E ve la farà cancellare senza problemi L'ultimissimo passo da fare sarà quello di disinstallare tutti i programmi Per cui andiamo di nuovo su impostazioni PC Questa volta clicchiamo su App Andiamo nella sezione App e funzionalità E innanzitutto disinstalliamo Rainmater Quindi scorriamo in basso Clicchiamo su Rainmater Disinstalla e poi ancora disinstalla Il prossimo programma sarà Ultra UX Theme Pasher Quindi clicchiamo qui Clicchiamo disinstalla e poi ancora disinstalla Clicchiamo su Uninstall E a questo punto vi chiederà di fare un riavvio Una volta completato il riavvio non ci sarà nessuna traccia della personalizzazione E tutto sarà tornato esattamente come prima E con questo siamo finalmente giunti Al termine di questo video Spero come sempre che vi sia stato d'aiuto E che possiate apprezzare questa personalizzazione Ci è voluto davvero tanto per creare questo video Per trovare tutti i temi Registrare, editare Quindi nel caso l'abbiate apprezzato Io vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace a questo video Iscrivetevi al canale Abilitando la famosissima campanellina delle notifiche Mi raccomando seguitemi su tutti i miei social O soprattutto Instagram Trovate il link qua sotto in descrizione E come sempre la cosa più importante di tutte Vi chiedo gentilmente di condividere questo video Dovunque con tutti i vostri amici Per far scoprire anche a loro questa personalizzazione fantastica di Windows 10 Ma soprattutto per aiutarmi a farmi crescere E detto questo da FedeTutorial è tutto Noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video